Cari amici, benvenuti sul canale poetico Savinotesse. Ho creato una nuova poesia dal titolo La ricompensa per le pene. Spero dopo la condividerete a tutti e farete iscrivere tutti i vostri amici al mio canale YouTube Savinotesse attivando la campanellina per le notifiche. Considerazioni sulla poesia. Noi viviamo una vita difficile, fatta di pene e problemi e a tratti è scontrosa, impossibile, si rivela molto difficile ed è colma di insidie e problemi vari. Viviamo quindi una vita povera, scarna di emozioni vere ma ci sarà una ricompensa perché se soffriremo ci sarà chi ci saprà consolare in seguito. Vi leggo adesso appunto la poesia dal titolo La ricompensa per le pene. Viviamo una vita difficile, fatta di pene e problemi a tratti scontrosa e impossibile colma di insidie e dilemmi Viviamo una vita povera, scarna di emozioni vere a tratti semplice e foriera di passività e azioni povere Ma ci sarà la ricompensa per le pene sofferte in vita Ci sarà la sacra rivalsa che ci collega alla sfera gloriosa La ricompensa per le pene è per chi ha sofferto le sfere povere e negative che nel mondo ha subito Grazie, spero la condividerete a tutti Arrivederci Grazie, spero la condividerete a tutti